Grey Fox, colonel, quel ninja è il Grey Fox, non ho dubbi. Ridicolo, lo sai benissimo che è morto a Zanzibar. No, avrebbe dovuto morire, ma non è stato così. Cosa? È successo prima che entrassi nello staff medico della Foxhound. Stavano usando un soldato per i loro esperimenti di terapia genetica. Non l'ho mai saputo. Accade dopo il suo retiro. Era in carica mio predecessore, il dottor Clark. Il dottor Clark? Sì, è stato lui a iniziare il progetto di terapia genetica. E dove si trova ora? È stato ucciso da un'esplosione in laboratorio circa due anni fa. Che cosa ne è stato di quel soldato? Come soggetto sperimentale decisero di usare il corpo di un soldato recuperato dopo la caduta di Zanzibar. Ed era Grey Fox. Ma era già morto? Sì, ma lui l'ha riportato in vita. L'ho infilato in un prototipo di esoscheletro e l'ho tenuto sotto sedativi per quattro anni, mentre faceva esperimenti su di lui come se fosse un giocattolo. I soldati genetici di oggi sono il risultato di quegli esperimenti. Questa è la cosa più schifosa che io abbia mai sentito. Lo hanno usato per sperimentare tutti i tipi di tecnica per la terapia genetica. Naomi, perché non ci hai detto prima di questa storia? Perché si tratta di informazioni riservate. È l'unica ragione. Naomi, cos'è successo in seguito a Grey Fox? Il rapporto affirma che è morto nell'esplosione. Ho capito, ma anche se quel ninja fosse Grey Fox, la domanda è perché si trova qui? Non so, ma da quello che ho capito lui non si ricorda chi era. Intendi dirmi che è ridotto a un robot senza mente? Non ne sono certo, ma sembra intenzionato a combattermi fino alla morte. Ci incontreremo ancora, ne sono sicuro. Allora lo affronterai di nuovo? Fino a quando non lo ucciderai? Ah, non lo so. Mi sembra che sia questo quello che vuole.